E' un momento difficile per tutti, per commercianti, liberi professionisti, artigiani. Il decreto Cura Italia lascia privi di tutela la classe forense, l'intera classe forense. Abbiamo bisogno di risposte, vogliamo un interlocutore che non può essere soltanto cassa forense ma lo Stato. Al tempo stesso noi giovani avvocati di Vallo della Lucania abbiamo ritenuto opportuno fare una proposta, e rivolgerla al nostro COA che ci ha dato ascolto, al Presidente Lentini, affinché a Vallo e a non solo ci sia consentito di svolgere le udienze attraverso gli strumenti telematici. E' il tempo di attrezzarsi in modo tale da consentire a noi liberi professionisti di continuare a svolgere la nostra professione dignitosamente anche in questo periodo di crisi. e chiediamo un passo nei nostri confronti anche alla magistratura per chi si adegui a questa emergenza e in modo tale da camminare insieme in questo spazio, in questo momento storico difficile, per garantire ai cittadini di avere giustizia.